Ciao Darners siamo di nuovo nel negozio triple 20 di Brescia per divertirvi veramente da casa online oggi vi presentiamo il grand board 132 bene adesso vediamo come poter impostare una partita che può essere giocata fino a quattro giocatori con il grand board potete completare la vostra linea di tiro con degli accessori eccezionali il tappetino con i led e la barra di tiro l'unico muro di casa che avete a disposizione è quello che confine con i vicini avete paura di disturbarli e correttatevi per ammorto con questo pratico tre piede utilizzando anche il porta tablet io l'airoique 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 l'airoique